Il Paradisi delle Signore 8 25 29 settembre 2023, Anticipazioni Viene inviato un regalo a casa Puglisi Davito, Elia Tedesco. È sorprendente, ma Maria, Chiara Russo, non sembra molto entusiasta. Tore, Emanuel Caserio, cerca di avvicinarsi a Elvira, Clara Danese. Gallo però rifiutò la sua offerta di uscire da solo con lui. Matilde, Chiara Baschetti, viene a sapere che Vittorio, Alessandro Tersigni, ha seguito il suo suggerimento di scattare la foto di copertina del mercato Paradiso. Punto Frigerio ne è soddisfatto. Nel frattempo, in Paradiso, torna dopo qualche tempo di letta d'Ambrosio, Barbara Venturato. Il giornalista sembrava non voler abbandonare Conti. Nel frattempo Adelaide, Vanessa Gravina, teme che Umberto, Roberto Farnesi, utilizzi la sua confessione contro di lei. Allo stesso tempo, l'ha accusata di averlo escluso dalla sua vita. Le Paradide dà motto episodio 12 martedì 26 settembre 2023. Alfredo, Gabriele Anagni, vuole aiutare Salvatore a riconnettersi con Elvira. Quindi organizza una gita di gruppo. Mentre lascia il Paradiso, diletta incontra Tancredi, Flavio Parenti. Il fratello di Marco, Moisa Curia. Dopo uno scambio apparentemente cordiale, la mette in guardia da un suo collega giornalista. Dal canto suo Matilde non può sfuggire all'intesa che vede tra D'Ambrosio e Vittorio quando li vede insieme. Ciro, Massimo Cagnina, chiama Vito. Il capofamiglia lo ringraziò del dono alla presenza di Maria, che sembrava stranamente imbarazzata. Matteo, Danilo D'Agostino, non ha ancora trovato una soluzione ai suoi problemi con la madre. Nel frattempo, Marcello, Pietro Masotti, comincia a perdere la pazienza con le attenzioni di Umberto nei confronti di Adelaide. Dal canto suo Guarnieri decide di raccontare tutta la verità a Flora, Lucrezia Massari, per non farla ingelosire. Il Paradisi delle Signore 8 puntata 13 mercoledì 27 settembre 2023 Aide decide che è arrivata l'ora di riprendere le redini della sua vita per quanto concerne il suo posto in società. Salvatore è sempre più convinto di voler riconquistare Elvira. Vuole essere al corrente su tutto sul nuovo fidanzato della Venere. Maria e Matteo si incontrano nuovamente e a Agata, Silvia e Bruno, non sfugge che la sorella ne è turbata. Diletta indaga su quale sia il reale rapporto tra Vittorio e Matilde. Nel frattempo, ha usato tutte le frecce del suo arco per conquistarlo. Flora rivela accidentalmente qualcosa di intimo su Adelaide. Questo gli è stato affidato da Umberto. Ciò accade durante una conversazione con Gramini, Greta Oldoni. Fiorenza colse l'occasione per mettere in difficoltà la contessa. Le Paradide dà motto episodio 14 giovedì 28 settembre 2023 Marcello continua ad avere dubbi su Matteo. I dubbi non lasciano solo Salvo, che si trova a fronteggiare l'incertezza. Ha suggerito che il fuoco di Elvira fosse il risultato di un'invenzione. Alfredo però respinse questa teoria. Umberto è furioso con Flora perché ha detto tante parole su Adelaide a Gramini. Angela, Alessia De Bandi, consiglia al fratello Marcello di cercare informazioni su Matteo in una vecchia scatola. È qui che la madre ha lasciato i ricordi di famiglia. Barbieri ha trovato qualcosa di toccante. Tanto Vittorio e Matilde preparano il discorso di ringraziamento per il premio vinto insieme. Ancora una volta si sono avvicinati. Il Paradisi delle Signore 8 puntata 15 venerdì 29 settembre 2023 La lettura della lettera di Silvana, la mamma di Matteo, scritta per sua madre, induce Marcello a prendere la decisione di ritrovare il fratello. È determinato a fare chiarezza con lui. Chiede supporto a Maria che, grazie a un trucco, riesce a ottenere un indizio per scovare dove si trovi. Non solo Salvatore, anche Irene comincia ad avere dei sospetti sulla reale esistenza di Tullio. Nessuno ha ancora conosciuto il fantomatico fidanzato di Elvira. Salvo però fa una scoperta inaspettata. Umberto e Adelaide si riparlano. Sembrava che stessero abbassando le armi. Intanto Diletta porta a Vittorio un dossier importante per attaccare Tancredi di Santerasmo.